Il gatto mammone, una leggenda ormai quasi del tutto scomparsa, ma il gatto mammone è il maimon, la scimmia, non è altro che la bertuccia e il macaco che un tempo abbondava nei mercati e poi scomparso. Quando poi è riapparso, quando nel 300-400 si è avuto una nuova rinascita dei commerci, ormai il gatto mammone era diventato uno spiritello maligno, un'altra creatura, non era più la scimmietta di un tempo. Grazie a tutti.